Siamo qui con Trevo Trevisan, il nuovo acquisto del Varese, arrivato dal Padova, a cui voglio rivolgere una domanda. Come ti sei trovato a giocare oggi nel Varese, quindi la prima partita con questo modulo e soprattutto come è andata? Beh, secondo me è stata una prova positiva da parte della squadra perché oggi per varie situazioni non era facile giocare. Di fronte avevamo una squadra tosta, ostica perché pensavo prima a difendersi e poi nelle ripartenze. Io, come ho detto prima con i vostri colleghi, sono contento perché ho visto un Varese vivo, una squadra che si è aiutata dal primo all'ultimo, anche a noi nuovi, i compagni ci hanno accolto bene e sono veramente felice di affrontare questa nuova avventura con il Varese. Secondo me la squadra è viva, un gran bel gruppo, si può fare solo che bene. Speriamo di recuperare nelle prossime partite, sicuramente anche oggi il campo non è stato d'aiuto? No, diciamo che le condizioni climatiche del campo non ci hanno aiutato, però quello da salvaguardare secondo me è la prestazione dal punto di vista del collettivo e del carattere, perché era difficile, affrontavamo una squadra che ha un bellissimo rollino di marcia in trasferta, quindi ci sono contento, è normale, la vittoria era meglio per tutti, però ci abbiamo provato fino all'ultimo, abbiamo provato un punto a casa e un punto di partenza. Esatto, va bene e mi raccomando grinta ragazzi che vi vogliamo carichi. Grazie. Grazie.